Le immagini che avete appena visto sono le scene periodiche a cui assistono cittadini e residenti del centro storico di Firenze. Per questo motivo il prefetto Laura Lega ha firmato un'ordinanza che disegna una zona rossa, strade e vie off limits per chi ha violato la legge o le regole. Le 17 zone rosse di Firenze sono disposte soprattutto nel centro storico della città. Abbiamo fatto un giro per queste strade per due sere consecutive e a parte qualche caso isolato queste zone off limits le abbiamo trovate deserte. Non c'era nessuno. Siamo partiti da Via dei Benci, uno dei cuori pulsanti della Movida Fiorentina, a due passi da Santa Croce. Qua in effetti ci sono soltanto i soliti ragazzi che sostano sulla strada fuori dai locali. Nessuna situazione strana o controlli evidenti. Fatti pochi metri appena usciti dalla zona rossa, ci imbattiamo nel disagio di circa una ventina di cittadini rom a dormire davanti all'entrata del Palazzo dei Congressi. Poi a due passi dai luoghi off limits vediamo una scena di morte, lo scambio di droga e il dramma dell'eroina. La preparano e se la iniettano.